Rivolgiamoci allo Spirito Santo chiedendo la possibilità di pregare con amore e avvalendoci di quella preghiera che Dio ha donato a tutti noi Rivolgiamoci dunque a Maria Madre di Dio e Madre Nostra Regina del Cielo e Regina della Terra A Maria che ci ama con un cuore infiammato e il cui volto risplende di vera umanità Ave Maria Piena di grazie Il Signore è con te Tu sei benedetta tra le donne E' benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso E' nell'ora della nostra morte Amen Prega per noi Prega per noi